Nel bel che la resenta, ravanere mulas, barbabietule spinastri, palanca al maz. Nel bel che la resenta, che borla giovanel, che borla giovanel. L'alza gli occhi al cielo, ravanere mulas, barbabietule spinastri, palanca al maz. L'alza gli occhi al cielo, la vedenza è sereno, la vedenza è sereno, cielo sereno. L'arrival Giori, l'arrival Mazzuzzi. Ecco, buonasera a tutti, siamo qui con il Saluto Humana. Tra le altre cose, grande successo di questo doppio concerto. Sì, un pienone, anche questa sera sarà un pienone. Speriamo che vi divertiate come ieri sera, diciamo così. E sì, infatti, ricordiamo ai nostri telespettatori, Saluto Humana, sono riusciti a fare il tutto esaurito in prevendita. Diciamo così? Sì, diciamo proprio così. Vabbè, siamo in casa, giochiamo in casa e vabbè, c'è un sacco di gente in giro che ci vuole bene, soprattutto da queste parti. Ecco, il vostro è un ritorno qui ad Asso, giusto? Sì, il nostro è un ritorno, è una conferma qui a Canso di nuovo, l'anno dopo, via. Sì, il nostro è un ritorno. Si sta stretti negli ali della città di Milano e mi sembra di venire da molto più lontano. Consumati consumisti, consumando un caffè, conversavano un po' tristi, commuovendo anche me. Che son facili alle lacrime, mi dovete perdonare. Nel frattempo mi son perso, si può sempre rimediare. Qualche brutta figura, se non sai cosa dire, proverò con della musica sopra questo rumore. Cos'è su Miami, Cos'è su Miami, Cos'è su Miami, Cos'è su Miami. Cos'è su Miami, Cos'è su Miami. Cos'è su Miami, Cos'è su Miami, Cos'è su Miami. Cos'è su Miami. Saranno lumi messi in fila al Campo Santo, saranno stelle colorate sopra il pianto. Dondola con me perché stanotte sono il principe dei sogni, detto in mai.